La giornata di oggi ha un titolo interessante, l'avrete visto perché se siete qui vuol dire che mi piaceva, QBITS pillole quantistiche per i curiosi. Il titolo dice già qualche cosa, ma QBITS nome è un po' particolare, il redattore dopo Fabio ci spiegherà un po' il tutto, e per i curiosi, proprio perché questo tema è sicuramente di attualità, di estrema attualità, perché guarda il futuro e quindi cercare di capirne un po' di più è giusto per approfondirle un po' è un elemento sicuramente giusto. Noi praticamente i calcolatori attuali che tutti noi usiamo in maniera continua, anche prodotti che a volte non pensiamo, penso al TomTom, è un martingegno molto articolato che richiede molta tecnologia, cioè spate, e praticamente usiamo tantissima tecnologia in questo campo e i computer stanno arrivando, ci dirà meglio lui, a dei confini, oltre confini fisici e oltre difficilmente potranno andare, quindi c'è un limite nel loro sviluppo, nelle loro capacità di caldo. Questo limite, il tentativo che viene fatto è quello di passare a qualche cosa di più, con più capacità di memoria, con più velocità di calcolo e quindi come poter affrontare meglio vari problemi. Fabio Ortovani, professore, nostro socio fondatore, questo mi sembra che sia un pregio, che a me fa piacere dirlo, già da tanti anni fa, non ricordo neanche quanti di preciso, comunque sono più di vent'anni che in qualche maniera facciamo cose per la città, in particolare poi abbiamo fondato, fatto in varie ragioni. Ha insegnato all'università fino all'altro ieri, fino a poco tempo fa, insegnava, la devo leggere perché io non me la ricordo mai bene, insegnava praticamente metodi matematici della fisica e di teoria quantistica della materia all'Università di Bologna, la devo leggere perché se fosse matematica era facile, ma così era tutto un po' più complesso. Ci spiegherà, ci condurrà in un approfondimento di questo tipo di iniziativa che affrontiamo oggi, questo è un po' l'argomento di oggi. Lascio subito la parola a lui perché non sono io che deve fare l'incontro. Buonasera a tutti intanto, come ha detto Bruno, io sono un pensionato, io era professore di fisica all'Università di Bologna e mi occupavo, come insegnamento principale avevo metodi matematici della fisica che è sostanzialmente il metodo di matematici per la meccanica quantistica, cioè cercavo di fornire agli studenti di fisica qual era la matematica necessaria per studiare i problemi quantistici. Poi fisica quantistica della materia era un altro corso che tenevo, ma non era il principale, perché il principale era per tutti gli studenti, l'altro era quello che si chiamava un complementare una volta. Io mi sono sempre occupato di meccanica quantistica e di simulazioni col computer della meccanica quantistica, quindi sono sempre rimasto un po' legato al computer e alla meccanica quantistica, quindi sono molto interessato, ho seguito i primi passi anche dei qubits, cioè del sostituto dei bits che sono nei computer ordinari. Quindi cercherò di spiegarvi quali sono i principi fisici che ci stanno dietro, che sono molto, diciamo, il termine che usano è controintuitivi, perché vanno contro l'intuito, è normale, però così sono. Partiamo dall'inizio, dal lontano 1936, quando un certo matematico inglese, Alan Turing, inventò l'idea, perché lui la inventò solo, l'idea di un computer, di una macchina. Lo fece in risposta a una domanda posta da un matematico tedesco, che chiedeva se c'era un metodo meccanico, praticamente, ma vuol dire quasi automatico, di decidere se una frase matematica era vera o falsa. Allora lui inventò, si ideò, una macchina, che adesso è chiamata macchina di Turing, con cui, ipotizzò, non la costruì, nessuno l'ha mai costruita, la vera macchina di Turing, c'è un modello ricostruito da un museo, diciamo, ma non è mai stata costruita, ne è usata una macchina di Turing originale, però con questo lui dimostrò che la risposta al problema posto dal matematico tedesco Hilbert non aveva soluzione, cioè non esisteva un modo meccanico per dire che qualsiasi affermazione matematica era vera o falsa. Però, con questa idea, lui intanto chiarì che cos'era che si poteva calcolare, nel senso meccanicamente, e quindi la sua macchina di Turing, quella chiamata, era, poteva essere, prima idea di computer, che poteva, e lui stabilì quali erano le cose che si potevano calcolare, che poi facciamo adesso tutti col computer. Quindi, lo ideò solo, ed è una macchina che, diciamo, ha tutte le caratteristiche dei computer odierni, cioè una memoria, che era rappresentata da una striscia di carta, su cui si può leggere la macchina, legge, scrive, e prende, segue un programma, diciamo, cioè una macchina programmabile, come quelle che sono i nostri computer da adesso. Dopo Alan Turing, dopo, durante la guerra, venne impiegato, diciamo, dal servizio segreto inglese, e riuscì a decifrare, diventò perciò un criptografo, riuscì a decifrare i messaggi segreti tedeschi, salvando molte vite, diciamo, e quindi contribuendo notevolmente alla soluzione della Seconda Guerra Mondiale. Poi ebbe dei problemi perché era omosessuale, ma qui ho messo la locandina del film The Imitation Game, che racconta la storia, appunto, di come lui riuscì a scoprire la maniera di decifrare i messaggi tedeschi. Però è importante perché lui, in pratica, ha fondato una nuova scienza, l'informatica, la scienza dei computer. Quindi con Turing e le sue idee nasce una scienza vera e propria che è la scienza dei computer, o adesso lo chiamano informatica, diciamo. Adesso vediamo che il computer è entrato nella vita di tutti i giorni, noi abbiamo quasi tutti, ormai almeno nella parte civilizzata della società umana, il computer è presente in tutti i posti, in ufficio, ci sono i workstation, il laptop, ci sono grossi centri dati, ma il calcolatore elettronico, cioè il computer, è presente anche nei nostri telefoni, che sono dei computer a tutti gli effetti, nelle macchine fotografiche moderne, nei tom-tom che prima ha citato, cioè nei computer di bordo delle auto, e quindi sono un po' dappertutto. E quindi è per questo che noi chiamiamo quest'era, era dell'informazione o della digitalizzazione, se vogliamo. Poi dall'89 è nato anche il World Wide Web, adesso lo chiamano tutti Internet, diciamo, ad opera di questo Sir Tim Berners-Lee, che era ingegnere, penso ingegnere, al CERN di Ginevra, e nel suo computer cominciò a ideare come collegare fra loro, quello che c'era bisogno nel mondo della fisica di collegare fra loro i computer per scambiarsi enormi quantità di dati. E inventò Internet. Dopo ci sono tutti i browser che si sono susseguiti, fino adesso diciamo che abbiamo il wireless 5G, che è una evoluzione. Per questo motivo, diciamo, il computer e Internet hanno creato quella che si chiama la terza rivoluzione industriale. Noi ci troviamo adesso, forse alla fine della terza rivoluzione industriale. Vi ricordo che c'è stata la prima rivoluzione industriale in cui si è passati dal lavoro manuale al lavoro meccanico, attorno al 1760 e fino al 1840, in cui c'è stata, diciamo, un'invenzione che ha portato a questa meccanizzazione. È stata la macchina a vapore. Con la macchina a vapore ha cominciato, diciamo, il passaggio dal lavoro manuale al lavoro sfruttando la forza dell'acqua e del vapore. Poi c'è stata una seconda, dopo ci dicono, distinguono una seconda rivoluzione industriale quando c'è stata la grande industrializzazione, le catene di montaggio, la produzione di massa e anche di comunicazione. È stato inventato il telegrafo, dove sono state stese linee ferroviarie a lunga percorrenza e questo ha portato a uno snellimento, a una velocizzazione e quindi a una seconda rivoluzione industriale. Il computer e l'automazione, diciamo, seguita, costituiscono la terza rivoluzione industriale e hanno indicato come data d'inizio il 1947 quando è stato inventato o scoperto il transistor. nel 1947 segna la data di nascita del transistor e quindi dicono dei nuovi computer. Mentre i primi computer alla fine della guerra e prima della guerra erano dei pseudo-computer, andavano a valvola, duravano pochi minuti, poi molte valvole saltavano, col transistor tutto è migliorato. Qui già deve porsi una domanda, ma è su questa figura. Se noi in un giorno incontrassimo una civiltà aliena, gli alieni, avranno anche loro inventato il computer? È una domanda che uno si può porre. Nei libri di fantasienza lo danno per scontato. Cioè, nei libri di fantasienza, almeno quelli di fantasienza, gli alieni hanno automaticamente il computer, come noi. Non mettono che hanno inventato la Coca-Cola o i libri di Harry Potter, ma il computer, per i libri di fantasienza, sì. Perché? Perché sembra come se il computer fosse una risposta naturale a un'esigenza che ha la civiltà umana. Cioè, la matematica è considerata un linguaggio dell'universo. E qui il computer usa la matematica. E quindi sembra essere una risposta naturale prima o poi qualcuno lo dovrà inventare. E poi, questa è una domanda che non avrà risposta finché non incontreremo una civiltà aliena. Però uno se lo può chiedere. Vediamo adesso l'argomento più particolare, diciamo, di questa conferenza, che sono i bits e i qubits, in realtà. I bits... Allora, torniamo alla macchina di Turing. In esso c'era una memoria. In questa memoria lui lo pensava come un nastro di carta. Poi dopo, storicamente, è diventato prima un nastro di magnetico, quelli da registratore. Poi adesso sono memorie a stato solido, metamorie magnetiche. Ma, sostanzialmente, in queste memorie, bisogna scrivere, lui diceva, dei simboli. Alla fine, i simboli che cosa sono? Sono codificati con dei numeri. E i numeri, a loro volta, sono codificati con delle cifre. Nel calcolatore si usa il minimo numero possibile di cifre che si possono distinguere. Cioè, un sistema binario. Ci sono solo lo zero e l'uno, che sono i bits. Quelli che uno sente parlare di bits, la velocità di trasmissione di tanti megabits, sono tutte cifre binarie. O seri e uni, poi codificandole, una sequenza di seri uni fa una cifra decimale, e così via. Si può codificare con 8 bits. Si codifica tutto l'alfabeto ordinario, anche di più. Quindi, c'è questo, cioè, tutto il bit, se volete il termine bit che hanno inventato, è una contrazione di binary digit, cioè di cifra binaria. Quindi, è proprio, rappresenta la cifra. Sono la più piccola unità di informazione contenuta, manipolata, trasmessa nei vari computer, lungo le varie linee. Adesso è diventata un'esplosione, che tutto deve essere collegato. E tutto il contenuto informativo di un computer, o di una chiavetta che noi usiamo tranquillamente, è codificato sempre all'interno, tutto come una sequenza di cifre binarie. Poi, fisicamente, come sono internamente, possono essere delle piccoli condensatori in cui si accumula una carica elettrica, può essere un pezzettino di nastro magnetico, può essere, nei calcolatori, diciamo, ci possono essere varie forme. Però, alla fine, c'è l'astrazione, esistono i bit che uno manipola, trasmette e fa. Pensate solo ai videogame, in cui sono molto diffusi, è un'industria che sta andando per la maggiore, quella dei videogame, e lì, diciamo, si sono sbizzarriti. Cioè, una schermata di un videogame è un milione di bit che vengono messi sullo schermo. E la velocità con cui vengono manipolati è spaventosa, se uno si ne pensa, nei videogame. Tra l'altro, anche con delle immagini molto belle, perché ci sono dei videogame che hanno una grafica molto bella, diciamo, proprio appassionante. Quindi, i bits sono presenti anche nei computer, in tutti i dispositivi del computer. e l'unità centrale, che è, diciamo, la CPU, che chiamano, e che sarebbe, nella macchina di Turing, la testina di lettura che scriveva, leggeva, diciamo, sono dei calcolatori, la CPU è un calcolatore che con regole logiche cambia in continuazione questi bit da 0, 1, 1, 0, seguendo regole logiche e sono come piccoli interruttori. Questi interruttori, sostanzialmente, sono uno, quando è acceso, passa corrente, sostanzialmente, in un dispositivo, o 0, spento. Poi, mettendo assieme 8 bits si fa un byte, ma, alla fine, il componente fondamentale è il transistor. Il transistor funziona, in questo caso, come un interruttore. È un interruttore che viene comandato da un terzo filo per accenderlo e spegnerlo. E, combinando questo, si crea una rete di qubit, di bit, scusate, adesso mi viene da già la parola dopo, all'interno del calcolatore. Il progresso che hanno fatto i calcolatori è spaventoso, se uno ci pensa, ed è codificato dalla cosiddetta legge di Moore. Pensate, questa legge dice quanti sono i transistor che vengono messi dentro un processore. E questi stanno aumentando, la legge dice sostanzialmente, questo, il numero dei transistor nei circuiti integrati raddoppia ogni due anni. Cioè, adesso siamo arrivati a una situazione, leggevo l'altro giorno, guardando per vedere questo, in un millimetro quadro ci riescono a far stare circa due milioni e mezzo di transistor gli ultimi processori dell'ultima generazione, che sono chiamati, con una tecnologia dette dai 5 nanometri, che vuol dire che lì ci sono dei fili che sono 5 nanometri, ma se uno dovrà fare il conto sono una ventina di atmi stare stretti, stiano stretti. Quindi, non so come facciamo, c'è l'ultimo processore che la Apple ha lanciato, M1 e segue questa tecnologia che dicono è molto più veloce degli altri, quelli che l'hanno visto io non l'ho mai usato perché sono passato un po' di tempo, io non faccio più tante cose con il computer, però io mi chiedo a quei livelli gli effetti quantistici cominciano a farci sentire pesanti. Cioè, a livelli così microscopici la fisica quantistica entra in azione pesantemente. quindi, secondo me, stiamo raggiungendo i limiti. E la legge di Moore stranamente è continuata a essere valida per 50 anni. Pensavano che fra qualche anno cambierà. Dal 65, diciamo, per 50 anni almeno hanno festeggiato che continuava a andare e sta ancora andando in realtà anche se intanto si vede qualche crepa. Un altro modo di vederla è guardando la potenza di calcolo che viene sviluppata dai computer che anche questa è cresciuta e raddoppiata ogni non so se 18 mesi qualcosa del genere e gli ultimi processori non so come abbiano fatto a calcolarlo ma dicono che sono paragonabili a un cervello di un topo la capacità di elaborazione di un cervello di topo in futuro noi ci siamo un po' lontani come il cervello umano sembra più potente ancora però stiamo seguendo quella strada quella strada allora qui si comincia a pensare che i computer non si riesce più a potenziare il calcolo mentre la potenza la richiesta del mercato diciamo del mondo moderno dell'industria richiede processi di calcolo sempre maggiori cioè quantità di calcolo che si possono fare al secondo sempre maggiore con i dispositivi attuali si pensa che stiamo raggiungendo i limiti oltre non si possa andare tant'è vero che negli ultimi anni io avevo notato questo che prima aumentava la velocità dei computer cioè la velocità si chiamava il ciclo di clock era sempre più corto adesso non aumenta molto aumentano raddoppiano i processori quadruplino moltiplino per 8 fino a 128 64 l'ultimo quando era ancora in servizio avevamo a disposizione un computer con 64 cpu invece di aumentare la potenza di calcolo della singola unità all'interno del computer mettevano come dire molti computer per poter aumentare la potenza di calcolo però più che tanto non si può andare quindi la gente si è rivolta oltre e quindi si cominciano a pensare a un computer che entri in gioco a quei livelli microscopici e qui entri in gioco a livello microscopico la meccanica guantistica e quindi si nasce l'idea di fare un computer non più che usi come i bit ordinari le leggi dell'elettricità diciamo il transistor sono dispositivi elettrici anche se il loro funzionamento di base è basato sulle leggi della meccanica quantistica sono dispositivi elettrici già nel 1981 c'era un Richard Feynman che era un fisico americano molto famoso e lanciò l'idea che bisognava usare i computer che usassero le leggi della meccanica quantistica perché diceva la natura non è classica da nazione se volete fare una simulazione della natura è meglio che la facciate usando la meccanica quantistica e per Diana è un bellissimo problema perché non è facile questo vi disse nel 1981 questo io lo so bene perché per tutta la B per 40 anni ho cercato di simulare la meccanica quantistica e per aumentare di un pochino il problema le dimensioni della consistenza del problema bisogna avere a disposizione sempre maggiori quantità di memoria sempre maggiori quantità di tempo calcolo oltre un certo limite io non sono arrivato con le mie simulazioni perché la meccanica è molto più complessa e occorre diciamo delle risorse che aumentano esponezionalmente con le dimensioni del sistema che uno vuole considerare quindi c'era questa idea già nel 1981 qualcuno ha raccolto un po' l'amo e ha cominciato a pensarci nell'85 un fisico inglese David non so come si pronunci Dauch non so descrisse fece un modello fece come i primi passi di Turing fece anche lui un modello di macchina universale diciamo una macchina di Turing quantistica universale descrisse un po' i componenti che ci volevano dentro nel 1994 questo vi darà un po' un'idea come nasse queste idee sfruttando un possibile computer quantistico non erano ancora stati costruiti solo erano tutte idee teoriche però nel 1994 un certo Peter Shore si inventò un algoritmo quantistico che era efficiente qui efficiente è una parola tecnica in questo senso cioè ha un significato informatico che chi è informatico dovrebbe saperlo efficiente per rompere i maggiori sistemi di criptografia usati attualmente cioè che usiamo anche adesso cioè che sono basati su un problema matematico complesso difficile che per risolverlo occorre un'enorme quantità di calcoli un eventuale computer quantistico in teoria ce lo dovrebbe fare in un tempo invece in maniera efficiente vuol dire in un tempo che non cresce esponenzialmente ma che cresce solo di meno che esponenzialmente diciamo con una legge di potenza se uno termine tecnico è questo quindi questo però drissero le orecchie alle banche diciamo cioè agli istituti finanziari ai governi alle agenzie di spionaggio perché erano molto interessate a rompere le chiavi criptografiche a scoprire i segreti quindi sono cominciati qualcuno ha cominciato a finanziare devono ancora scrivere un libro su quanto i servizi segreti abbiano finanziato perché non lo sa nessuno ma hanno buttato milioni di dollari di euro diciamo in queste ricerche a scapito della sicurezza diciamo ma adesso ne abbiamo e il componente essenziale è il sostituto del bit diventa un qubit che cos'è qubit allora la parola anche lei è una contrazione di quantum bit perciò sarebbe quantum binary digits se uno vuole cioè una cifra binaria quantistica cioè anche come il bit il qubit sarebbe la più piccola unità di informazione contenuta in un computer quantistico è un dispositivo che si può trovare in due situazioni fisiche distinte li chiamiamo stati in fisica sono stati fisici li chiamiamo così ma non confondete con gli stati della materia c'è attinenza ma diciamo sono stati fisici possono essere in due stati fisici mentre i bit però mentre i bit ordinari sono dispositivi elettrici che seguono le leggi dell'elettronica diciamo i qubit seguono i principi della meccanica quantistica e io cercherò sono difficili però cercherò di dirvi quali sono e cercherò di spiegarvi in essenziale quali sono perché non siamo oltre questi livelli attualmente con i computer quantistici dopo lo vedremo quindi sono un oggetto che si può presentare in due situazioni distinte il prototipo che io ho usato qui per adesso è un elettrone che è dotato di un dipolo magnetico cioè l'elettrone si comporta come un ago di una bussola però minuscolo microscopico il più piccolo ago possibile e quando lo andiamo a vedere come è orientato ha solo due posizioni o piantato in su con un certo valore o in giù con un valore opposto non ci sono altre possibilità questo intanto è una cosa è di qui che nasce la parola quantistica cioè è quantizzata in questo caso la misura che noi possiamo fare non è qualsiasi valore vengono fuori non viene fuori qualsiasi valore vengono fuori solo due valori uno positivo e uno negativo opposto in questo caso poi ci sono tanti sistemi cioè che possono presentare due situazioni fisiche distinte a livello quantistico però diciamo qualsiasi di questo va bene diciamo è lo stesso quindi noi identifichiamo facciamo prendiamo una decisione quando è girato in su diciamo che abbiamo come dire uno quando è girato in giù zero in altri dispositivi può essere una corrente nei computer che hanno terrarizzato i primi era una corrente superconduttiva di un anellino che poteva girare a destra o a sinistra cioè c'è solo due posizioni due possibilità anche quella aveva solo due valori quindi anche quello è quantizzato io qui ho messo anche delle notazioni perché dopo vedremo dopo cosa vogliono dire che si indicano con questa freccina è una maniera inventata da uno dei padri della meccanica quantistica per indicare le situazioni fisiche è la notazione di Dirac se qualcuno è interessato io l'ho imparata appena durante il corso di laurea addirittura l'ho usata per tutta la vita non mi piace mantenere adesso entriamo secondo me un po' nel difficile però se mi seguite interrompetemi se non capite la prima cosa che questi sistemi così microscopici così piccoli diciamo in realtà che cosa sono può essere una molecola un atomo il dispositivo che rappresenta questo qubit può essere ci sono varie tipologie e tutte sono sotto sperimentazione attualmente nessuna dice la parola fine nel senso questo è il perfetto il perfetto non esiste ancora secondo me la prima cosa che il primo principio la prima pillola quantistica che voglio dare è questo che in meccanica quantistica se sono possibili due situazioni fisiche ne sono possibili anche infinite altre in realtà cioè c'è il principio di sovrapposizione cioè ci può essere che questo ago che noi quando lo guardiamo o è su o è giù in realtà può anche essere o diciamo una sovrapposizione di su e giù questa è una cosa che è controintuitiva è come dire una moneta testo-croce che è contemporaneamente testo e contemporaneamente croce poi dite non è possibile e questo invece sembra sia possibile a livello quantistico vale questa regola in principio perché nessuno sa cosa voglia dire ancora adesso nessuno sa cosa vuol dire cosa qual è il significato e dice però funziona tutti i calcoli si vanno meccanico tornano gli esperimenti tornano quindi in realtà è come dire un qubit non rappresenta solo 0,1 può rappresentare anche tutta una sovrapposizione e da un punto di vista matematico può rappresentare i due coefficienti che danno la sovrapposizione matematici dicono è una combinazione lineare se volete da un punto di vista matematico l'oggetto è abbastanza semplice in questo caso è una combinazione lineare e quindi un vettore diciamo cioè può essere rappresentato come un vettore cioè l'oggetto matematico è semplice è il significato fisico di questo vettore che non è ancora chiaro neanche oggi cioè non esiste una interpretazione che tutti i fisici condividono però bisogna imparare a usarlo e quando si usa funziona quindi anche per arrivarci non è che sia una cosa che sia arrivata subito cioè quando è nata la meccanica quantistica per fare questo principio ci ha messo 25 anni di discussione quindi se anche non lo comprendete bene adesso è plausibile chiaro? ci ha messo dal 1905 al 1930 più o meno per riuscire a focalizzarlo un po' però funzionava dappertutto quindi sostanzialmente un qubit rappresentato da un vettore cioè da un oggetto con due numeri rappresentato ci sono due numeri quindi tanto da un punto di vista informatico in un qubit c'è più informazione del semplice bit ci sono due numeri veri e propri associati che quando li vediamo sono 1 e 0 0 e 1 i coefficienti si possono scrivere così 0 1 1 0 ma in realtà all'interno l'idea è che all'interno del computer si possono generare anche queste combinazioni lineari quindi avere un contenuto informativo maggiore e anche cioè se io devo rappresentare un numero con delle cifre binarie ce ne possono volere parecchie qui è un solo qubit mi dà già due numeri la complicazione in realtà c'è una complicazione che sono accettabili anche i numeri complessi non so se voi conoscete tutti i numeri complessi cioè esistono anche i numeri che utilizzano l'unità complessa la i che è la radice di meno 1 questi numeri non esistono nella realtà chiaro? cioè non esistono nel senso che nessuno strumento fisico di misura darà fuori come numero la radice di meno 1 chiaro? questo già dice che quei due coefficienti lì non c'è nessuno strumento che li vada a misurare ci sarà un altro principio che dice questo questo è il primo principio che è controintuitivo perché noi non possiamo immaginare una cosa che sia la sovrapposizione di due situazioni fisiche contrapposte in un certo senso ma invece in natura sembra sia possibile esiste seconda cosa secondo principio diciamo che entra dentro è il principio della misura cos'è? vuol dire che quando noi i due coefficienti che ho scritto e che rappresentano il vettore torno indietro un attimo cioè io l'ho rappresentato questo vettore come un vettore nel piano non so se siete tutti capiti della rappresentazione grafica del piano il piano è uno spazio vettoriale a due dimensioni questo vettore io lo senti di lunghezza 1 perché in realtà in meccanica quantistica la lunghezza non ha importanza cioè l'importante è la direzione cioè il rapporto fra i due coefficienti come stanno fra loro non ha importanza la lunghezza del vettore come vettore quello che conta è la direzione quindi si può assumere che la lunghezza sia 1 assumendo questo diciamo i due coefficienti si dice vengono normalizzati cioè la loro somma dei quadrati o meglio dei moduli quadri essendo numeri complessi deve fare 1 e quando eseguiamo una misura però quello che succede è che il risultato della misura non è né non è il numero a o b è uno dei due stati del qubit cioè può venire girato in basso con probabilità uguale al suo coefficiente modulo quadro oppure girato in basso con la sua probabilità con la probabilità data dal coefficiente che ci aveva cioè se un coefficiente è 0 vuol dire che se lo misuro non verrà mai fuori se un coefficiente è 1 viene fuori sicuramente però questo anche dice che in conseguenza della misura il qubit è cambiato cioè è passato da una combinazione lineare a uno solo dei possibili stati che io posso vedere anche questo è controintuitivo ad Einstein non piaceva per niente diciamo Einstein che è stato considerato uno dei padri fondatori della meccanica quantistica diciamo gli ha dato praticamente il premio Nobel anche per quello la sua volta però gli dava un fastidio enorme questo fatto cioè qui c'è viene rappresentato questo dilemma diciamo nel famoso se lo trovate lo trovate in internet il gatto di Schrödinger era e diceva c'è un gatto che può essere dentro una stanza e per qualche motivo potrebbe essere morire o vivere se è un gatto quantistico può essere contemporaneamente vivo e morto però quando lo andiamo a osservare o è vivo o è morto e Einstein affermava non posso credere nemmeno per un attimo che Dio giochi a dadi e questo gli ha portato a criticare pesantemente i principi della meccanica quantistica l'accusava di essere incompleta poi anni e anni la gente voleva rispondere a questa domanda dice pensava se io lo vedo morto vuole dire che era morto anche prima e invece no è proprio l'atto della misura che fa decidere che viene fuori o morto o vivo e questo anche questo non è certamente intuitivo contro il nostro intuito normale e Bohr rispondeva Einstein piantala di Dio cosa fare con i suoi dati diciamo così era una diatribia che andava avanti Freinstein e gli altri fisici come ho detto queste cose sono saltate fuori ci hanno messo 25 anni di litigi e discussioni a formalizzare tutto passiamo ora a un'altra regola diciamo questo è più che non è tanto un principio fisico è più una parte matematica e dice come facciamo a mettere assieme più qubit niente li mettiamo insieme e poi li elenchiamo però in questo modo però abbiamo molte combinazioni di disporre questi qubit e con due abbiamo quattro disposizioni ma in corrispondenza abbiamo la sovrapposizione di quattro situazioni distinte cioè sul computer assieme con quei due qubit si possono associare una sequenza di quattro numeri con certe restrizioni ma comincia ad aumentare con tre qubit ne facciamo otto cioè ogni volta quando si mettono assieme dei sistemi nella composizione i gradi di libertà si moltiplicano noi siamo abituati nella geometria ordinaria che aggiungendo un grado di libertà si sommano diciamo normalmente cioè questi spazi vettoriali dove vivono questi oggetti matematicamente aumentano le dimensioni secondo moltiplicandosi fra loro quindi è facile arrivare a delle dimensioni enormi moltiplicando in continuazione qui nei computer quantistici vanno a potenze di due cioè aumentando il numero dei qubit si è moltiplicato si viene due alla n diciamo stati possibili e in corrispondenza all'interno del calcolatore è come avere una sequenza di due alla n numeri e quando l'idea è quando noi agiamo su questi qubit li modifichiamo stiamo modificando tutti i numeri possibili della combinazione lineare cioè agiamo su tutti quindi c'è quello che adesso nei computer è un parallelismo naturale cioè i calcoli li fanno in parallelo se sappiamo farli li possiamo fare in parallelo quindi c'è un parallelismo naturale che nei computer ordinari invece sono fatti da vari processori che agiscono ma con certi limiti fanno un calcolo assieme tutto in una volta però agiscono sempre su un numero limitato di bit qui si agisce su un numero enorme cioè di coefficienti diciamo di numeri se noi prendiamo mille cubits che non l'hanno ancora fatto anche se qualcuno dichiare sì ma non ci credo un sistema mille cubits sarebbe il numero delle stati sarebbe maggiore del numero degli atomi dell'universo probabilmente è una cosa spaventosa cioè un numero enorme quindi agire contemporaneamente su quello renderebbe molto più veloce il calcolo oltre al fatto che i processi quantici sono rapidissimi sono a livello atomico molecolare quindi risponderebbero subito agli stimoli quindi questa diciamo è la terza regoletta che si deve devono seguire i sistemi composti che si chiamano questi spazi vettoriali si chiamano spazi di Hilbert se uno è interessato a cercarli in internet ed era la materia prima del mio corso di metodi matematici i matematici puri non li chiamano di Hilbert perché hanno riservato la parola Hilbert gli spazi di questo tipo di dimensioni infinite dimensioni qui possono essere anche infinite anzi noi siamo come sistema quantistico viviamo in uno spazio a dimensioni infinite matematicamente anche un atomo stesso ha dimensioni infinite quantisticamente lo spazio qui sono spazi dimensioni finite grandi ma finite e una particolarità che è entrata nel linguaggio di io dico molto a sproposito nei nostri giorni è l'entanglement che è presente in queste combinazioni lineari può essere presente diciamo e qui già con due cubizzi si può fare un entanglement cosa vuol dire vuol dire che i due bits o i due sistemi fisici in generale che sono sono legati quantisticamente tra loro cioè si può creare un legame oppure non si può essere però però è una cosa io la vedo puramente matematica questa situazione che io descrivo qui di due cubizzi uno messi uno su giù però nelle due situazioni opposte diciamo il primo su il secondo giù e il primo su giù e il secondo su sono due situazioni distinte e combinate fra loro in questo caso con coefficienti uno su radice due uno su radice due in modo che il quadrato un mezzo più un mezzo faccia uno la scelta è stata quella però questo vuol dire che sono da un punto di vista di probabilità equiprobabili però questi sono legati fra loro con si dice entangled non viene mai tradotta la parola in italiano perché suona malissimo in italiano entangled vorrebbe dire ingarbugliamento come quando noi e Luciano cerchiamo di prendere quei figli sono tutti accrovigliati e diventiamo matti però sta male dire sono ingarbugliati sono in realtà legati perché è questo combinato con la misura cioè matematicamente usando le altre notazioni io lo scrivo così diciamo uno su radice due il cat si chiama questo oggetto 0 1 più 1 su radice due cat 1 0 e supponiamo che questi due vengono legati fra loro in questa combinazione poi vengono separati diceva Einstein che andava di matto vengono separati fra loro e poi facciamo una misura sul primo andiamo a misurare il primo la misura qui c'è un principio torno un attimo indietro come ho detto può cambiare lo stato questo è quello che dice il principio di indeterminazione cioè c'è qualcosa è diverso dalla fisica classica nella fisica classica c'è diciamo un'assunzione di fondo mai detta ma c'è che sia sempre possibile fare una misura che l'asse imperturbato quello che sto misurando cioè io servo dall'esterno ma non tocco non cambio quello l'oggetto che sto misurando in meccanica quantistica questo non è possibile in meccanica fisica classica tu potevi misurare se lo toccavi potevi una cosa era solo una questione tecnologica in linea di principio devi riuscire a misurarlo per bene senza toccarlo però era in linea di principio possibile meccanica quantistica no è qui che entra in gioco quando si misura un oggetto si deve sempre entrare con il rischio di modificarlo quindi questo è controintuitivo era contro l'assunzione di base della fisica classica se noi eseguiamo la misura questo può dare solo due risultati o giù diciamo come dire il bit 0 se lo identifichiamo con la cifra 0 oppure il bit 1 ma contemporaneamente lo fa anche l'altro girandosi nel caso che li ho legati così nella parte opposta cioè quando torno indietro un attimo se misuri il primo giù il secondo a qualsiasi distanza si automaticamente va su risulta su questo Einstein non lo mandava giù perché diceva che andava contro la sua teoria della relatività della velocità della luce è vero in realtà non va contro il principio della velocità della luce come massima perché non c'è nessuna trasmissione da una parte all'altra e quindi niente che si trasmette che viaggi ma il cambiamento è stato verificato che avviene anche a distanze notevoli immediatamente questo ad Einstein dava fastidio e la chiamava spooky action at a distance cioè maleficazione a distanza però è un dato di fatto che esiste quindi però attenzione per avere entanglement bisogna prima preparare i due sistemi in questo caso i due qubit in un particolare stato perché non tutti gli stati cioè in una particolare situazione fisica di sovrapposizione e non tutte le sovrapposizioni sono valide cioè ce ne sono solo alcune e altre che hanno un po' di entanglement ancora diciamo quantitativamente come quantificarlo è ancora tutto da scoprire diciamo si sa solo quando è ben netto o quando non c'è ma quando c'è misto non è ben chiaro ancora gli ultimi studi che avevo fatto andavano in quella direzione cercare di capire quantizzare quant'era l'entanglement però questa parola adesso la mettono tutte se cercano di giustificare la telepatia la telecinesi sono tutte buffonate prima bisogna preparare questi oggetti portarli lontano che non è facile bisogna portarli lontano senza modificarli quindi senza rovinarli e non è facile però sono riusciti a verificarlo anche a distanze molto alte usando fotoni riflessi da un satellite verso che non so come abbiamo fatto io poi non dirò uno sperimentale quindi allora ho detto noi dobbiamo poter operare su questi qubit quindi dobbiamo operare in qualche modo usando una logica che vada dentro questi che prenda un qubit o più di uno e modifichi la loro situazione fisica modifichi i loro coefficienti sostanzialmente cioè i coefficienti che loro rappresentano matematicamente quindi bisogna e come all'inizio con i bits hanno inventato le porte logiche che non so come se si insegna una scuola più adesso non so le porte logiche che usavano la logica binaria cioè la logica booleana quindi c'erano partiamo da un bit solo cioè bit classico non è che si possa fare tante operazioni quella non banale è invertirlo fare l'operazione logica del not fa diventare lo 0 1 e l'1 lo fa diventare 0 che dicono la verità è falso vero vero falso il falso lo fa diventare vero il vero lo fa diventare falso è l'unica operazione non banale diciamo l'altra è non fa niente oppure a 0 mette a 0 mette a 1 sono quasi banali mentre l'unica operazione banale che richiede nei circuiti diciamo nei processori un circuito elettrico diciamo non banale è il not la negazione beh questa è un'operazione possibile dicono anche quantisticamente cioè possiamo fare l'operazione si usa la lettera x qui per motivi storici adesso diciamo mettono un x come dire negazione vabbè che trasforma il cubit 0 nel cubit 1 e il cubit 1 nel cubit 0 allora sì ma su una combinazione lineare agisse su tutti e due i coefficienti diciamo agendo su 0 lo fa diventare 1 e 1 lo fa diventare 0 e li mette in ordine come aver scambiato i loro coefficienti quindi questa è un'operazione che è matematicamente ben definita poi ci sono problemi casomai a implementarlo in pratica a seconda del cubit del dispositivo fisico vero che si sta usando però nel principio questa è un'operazione abbastanza semplice cioè i fisici sanno cosa devono fare devono interagire in una certa maniera provocando questo scambio diciamo di situazioni oppure ci può essere un altro qui sul cubit singolo ce ne sono infinite di operazioni che si possono fare questa è una cosa buona cioè mentre classicamente con un bit solo praticamente c'era solo un'operazione che si poteva fare non banale sul fatto di avere a disposizione due numeri a disposizione ce ne sono infinite tutte trasformazioni infinite però con una regola queste trasformazioni devono essere invertibili cioè devono intanto mantenere come ho detto prima che queste situazioni sono rappresentate da vettori la lunghezza del vettore deve rimanere inalterata quindi come dire voi avete questa sticella la potete in due dimensioni sostanzialmente ruotare solo però di rotazione le potete fare infinite quindi già più complicato cioè ci sono più possibilità quindi ce ne sono tante una possibilità importante perché l'idea è di ridurre il numero di posizioni che servono diciamo a quelle essenziali una molto importante è quella chiamata il gate di Adamar che fa un'operazione sui qubit fa una cosa semplicissima cioè 0 quando è nello stato 0 lo trasforma nella somma 0 più 1 diviso radice 2 cioè nella somma radice 2 è solo per mantenere la lunghezza ma cioè crea e l'1 fa diventare 0 meno 1 la differenza facendo somma e differenza l'operazione è invertibile che ha un po' di matematica sa bene effettamente una rotazione più o meno una rotazione quindi è qui che comincia a generare è un dispositivo che può cominciare a combinare fra l'ora generare dei numeri nuovi cioè una sovrapposizione genera la sovrapposizione e questo è importante mettendo assieme tanti sovrapposizioni si va avanti a molti in realtà nei bit classici ci sono ad esempio qui ci sono diverse operazioni logiche ma con due bit si può fare ad esempio l'or nell'algebra booleana l'or è l'operazione or o somma analogo come somma cioè 0 o 0 fa 0 cioè falso falso e falso falso o vero è vero e così via vero è vero è vero è vero è vero e oppure se l'operazione and che deve essere è vero se è vero contemporaneamente sia il primo che il secondo diciamo cioè sia x che y devono essere 1 per ottenere 1 altrimenti fa 0 con queste il not in realtà si può fare tutte le operazioni sui bit è noto da chi studia l'elettronica l'algebra booleana che basterebbe il not e l'end a fare tutte le operazioni possibili anzi basterebbe il nend quello che fa il not end combinato quindi però questi due hanno un problema che non sono invertibili nel senso che se io conosco il risultato non so dire chi era l'input queste operazioni non possono essere rappresentate da una trasformazione quantistica tutte le trasformazioni quantistiche preservano la lunghezza e sono invertibili come dire il computer quantistico può funzionare anche all'indietro in qualche modo cioè se funzioni in avanti potrebbe funzionare anche l'indietro cioè avanti e indietro cioè sono tutte trasformazioni reversibili cioè invertibili questo diciamo in un certo senso sarebbe importante perché da un punto di vista fisico in termodinamica le trasformazioni irreversibili comportano sempre un aumento dell'entropia è una quindi una perdita di calore una trasformazione reversibile in principio potrebbe andare senza perdi di calore quindi consumare meno energia quindi sperano anche in questo diciamo consumare meno energia poi in realtà naturalmente stanno consumando dei vagoni però vabbè non ci sono questi qui però cosa possiamo fare con due cubiz e qui hanno inventato una porta diciamo una porta logica quantistica che fa un'operazione molto semplice fa un quello che si chiama un controlled note un note controllato cioè un bit serve da controllo per fare il note sull'altro questa è un'operazione che in realtà si potrebbe fare anche con bit ordinari però questo qui sostanzialmente sarebbe quello che in algebra un xor si potrebbe simulare un xor e qui ho elencato cosa fa sui singoli cubit cioè lo 0 0 tra l'asse a 0 0 0 1 l'asse a 0 1 1 0 fa diventare 1 1 1 1 fa diventare 1 0 sembra una cosa un po' stupida ma in realtà questo qui serve per collegare fra loro due cubiti genera un legame in qualche modo e poi serve sostanzialmente a dire posso cominciare a fare il note e l'oro sarebbe l'xoro ma basta uno dopo con una negazione diventa un oro oppure può diventare un ente diciamo con un po' di logica quindi questo vuol dire che potrei simulare tutti i calcoli classici con dei calcoli quantistici cioè almeno calcoli classici li può fare anche un computer quantistico poi mi piace e qui ad esempio questo però è importante perché combinando i tre che ho descritto prima ecco che a partire dai cubiti nello stato zero cioè tutti messi a zero azzerata la memoria come dire i cubiti rappresenterebbero la memoria dei computer quantistici da una memoria azzerata io posso generare un due cubiti entangled fra loro e quindi cominciare a legarli a fare combinare a due a due poi dopo lo posso legare ad altri due ad altri due e così via e creare una catena tutti legati n cubiti quindi e in linea di principio avendo a disposizione tutte le possibili trasformazioni di uno e questo gate a due si può fare tutto i matematici gli informatici dicono bastano come in quelli classici bastava uno solo diciamo ma qui ce ne vogliono tanti a uno ma basta uno a due e sono invertibili diciamo nel senso io so cosa se io ripercorro le operazioni all'indietro so qual era l'input mentre nella logica classica no però questo è importante poi ce n'è un altro importante non necessario ma perché si può costruire con gli altri questo mi piace ricordarlo perché è stato inventato da un italiano si chiama il gate di Toffoli inventato da Tommaso Toffoli che permette di ottenere l'end proprio l'operazione end con un circuito quantistico simula il il gate nel dispositivo logico end e queste sono le operazioni perciò penso di dire sì adesso mi raccomando ma le pillole sono finite nel senso che i principi fisici della meccanica quantistica che vengono utilizzati sono questi che vi ho detto ora e poi dopo sono diciamo elaborazioni qui qui vorrebbe dire questi strumenti questi gate vengono combinati assieme per poter fare poi delle operazioni complesse che ha studiato l'informatica sa che la programmazione adesso si usano dei linguaggi evoluti c++ diciamo java e così via dice perché dobbiamo stare a fare la logica booleana che probabilmente non la fanno più nei corsi di informatica non lo so adesso il problema è che noi siamo a livello come quando era nel 1900 anni 40 i primi computer e la logica di programmazione era quella dei circuiti si scrivono dei volumi enormi di centinaia di pagine su come programmare questi computer usando questa logica booleana e quindi si bisognava imparare quella i linguaggi sono venuti dopo come qui adesso siamo a livello che dei linguaggi non ci sono cioè linguaggi evoluti di alto livello non esistono questo sarà lavoro per i giovani nel futuro se questi computer entreranno in vigore per adesso non esistono diciamo c'è qualche tentativo la Microsoft sta tentando di lanciare un suo linguaggio però non esiste sostanzialmente quindi siamo ancora a livello noi attualmente siamo a livello che erano negli anni 40 i primi computer enormi che c'erano allora una particolarità di cui tutti parlano ha fatto molto colpo che voglio un po' raccontarvi è che è stato possibile fare il teletrasporto quantistico tutti dicono hanno inventato il teletrasporto di Star Trek in un certo senso forse sì però a un livello che non è ancora certamente quello di Star Trek che cos'è questo? allora ve lo racconto come una storiella da una parte c'è in un laboratorio c'è Alice usano sempre questi nomi non so perché e a certa distanza in un altro laboratorio c'è Bob Alice ha un suo qubit che ha in una certa situazione una sovrapposizione né morto né vivo diciamo sovrapposizione di due stati e vuole trasferire questa informazione cioè passare il qubit a Bob a parte il fatto che potrebbe portarglielo fisicamente ma glielo vuole trasmettere perciò deve fare un teletrasporto come fa? deve avere un ingrediente l'ingrediente in comune con Bob è una coppia di qubit entangled tra loro cioè in cui se lo sono preparati la coppia entangled legate per esempio qui ho usato la combinazione 00 più 11 vuol dire tutti i due su oppure tutti i due giù a pari peso diciamo e poi dopo Bob quando si sono separati si è portato dietro il suo e Alice è rimasto col suo cosa fa Alice bene mette assieme il suo con quello che ha in comune diciamo con Bob cioè che è della coppia in comune con Bob fa una un cinotte e un gate di adam fa una trasformazione che gli cambia dopo che gli cambia i due cubit e poi dopo va a misurare li misura separatamente cioè assieme ma separatamente guarda uno guarda l'altro e ottiene un risultato che ho chiamato x e z che vuol dire ottiene 0 ottiene 1 in entrambi e lei cosa fa trasmette manda a Bob una telefonata e gli trasferisse questi due numeri che sono due cifre binarie 0 1 o 1 0 o 0 0 quello che è adesso no sto andando indietro scusate prende il telefono e gli comunica questi due numeri Bob cosa fa prende questi due numeri e in base a questi due numeri fa un'opportuna trasformazione cioè se x è 0 non fa niente se x piccolo è 0 non fa niente se x piccolo è 1 applica una negazione al suo cubit se l'altro bit è 0 non fa nient'altro se il bit se invece era 1 applica un gate che si chiama z miracolo gli salta fuori il suo cubit è diventato quello di Alice esattamente se volete i gate sono quelli giusti se volete seguire come seguono i cambiamenti perché perché il suo cubit che aveva all'inizio era sempre legato a quello che aveva Alice quando Alice è andata a far la misura ha cambiato il sistema ha cambiato il suo automaticamente è cambiato anche l'altro Bob non sa come è cambiato ma sa che in base a quello che gli ha detto Alice sa che lui otterrà esattamente la stessa cosa però Alice non ha più il suo cubit cioè lui ha il cubit ma non è più in quella situazione fisica cioè la situazione fisica si è distrutta da una parte e si è ricreata dall'altra quindi questo lo chiamano teletrasporto quantistico cioè l'informazione è venuta trasferita però si è persa alla sorgente l'informazione è veramente trasferita no non c'è più nel computer ci sono un bit un cubit girato in su e l'altro girato in giù indipendenti fra l'uno quindi ha distrutto da una parte e trasferito dall'altra quindi è questo che chiamano teletrasporto che è stato verificato sperimentalmente è vero hanno provato questo potrebbe essere una maniera per comunicare a distanza usando spero oppure anche all'interno di un computer quantistico per le varie parti componenti poter trasferire un cubito attenzione che Bob non fa nessuna misura fa solo trasformazioni se misurasse lo cambierebbe quindi attenzione non deve misurarlo dopo lo può usare come vuole diciamo se lo misura lo distrugge questa è anche adesso dopo quando parleremo dopo il fatto che andarla a misurare distrugge ha permesso di poter dire che una trasmissione quantistica se avviene è sicura non può essere intercettata perché se la intercetto la distruggo quindi io me ne accorgo quindi un'eventuale criptografia quantistica sarebbe perfetta qui che pompano interessate le agenzie finanziarie ad avere un metodo sicuro tant'è vero che qualcuno ha già cominciato a trasferire chiavi criptografiche in maniera quantistica proprio per garantire la sicurezza o arriva cambiata ma dopo hanno studiato meccanismi di controllo per verificare se c'è stato un cambiamento in mezzo adesso io non sono entrato già secondo me è già difficile questa parte qui la parte diciamo di come controllare un messaggio e entrare Silvi bisogna farli produrre nella stessa con un meccanismo fisico oppure se sono qubit produrli da un prima avevo fatto un gate questo qui questa combinazione due qubit te li prepari di quantisti questi due uno riprende uno se lo porta via l'altro rimane però come fa qui siamo ancora agli albori non è facile allora sì questi sono due elettroni e quelli non li cavi però quello l'hanno verificato con dei fotoni anche i fotoni possono essere usati la luce può essere polarizzata è polarizzata o orizzontalmente o verticalmente questi sono i due stati uno zero l'altro uno e quindi con luce polarizzata fotoni polarizzati li producono assieme e uno lo sparano lontano quindi lo producono insieme due fotoni e l'altro l'altro lontano sono intangolati se lungo le guide che usano guide ottiche oppure laser sono fatti bene non è facile potrebbero rimangono intangolati finchè siano indisturbati che non è facile perché hanno tentato hanno detto che si sono riusciti ma facendoli riflettere da un satellite l'atto della riflessione potrebbe distruggere però sembra ci siano riusciti con una certa efficienza anche lì c'è un problema di vedere se gli errori si possono correggere se ci sono errori perché ci possono essere correggeri perciò c'è tutto un lavoro che fanno questi diciamo ricercatori per tutte queste problematiche perché sono tutte da risolvere nei dettagli andiamo avanti adesso difficile non c'è più niente parliamo delle potenzialità adesso diciamo la parte difficile che ore sono sì adesso vado più veloce diciamo mi sono soffermato un po' su queste cose potenzialità sicuramente la crittografia sicurezza perché diciamo Shore ha dimostrato che le chiavi crittografiche attuali che richiederebbero centinaia di anni di calcolo da parte dei computer attuali potrebbero essere in pochi minuti distrutte da un computer quantistico efficiente inoltre ci sarebbe la sicurezza delle trasmissioni quantiche perché c'è un teorema matematico che dice non si può duplicare lo stato cioè io lo distruggo da una parte e lo trasferisco ma non lo riesco a duplicare perché uno è interessato a copiarlo cioè il messaggio che viene trasmesso una diciamo una spia potrebbe cercare di copiarselo non si può copiare la matematica proibisce proibisce di creare un duplicato di un altro computer è un teorema a meno di casi particolari siamo usati casi particolari che viene usato nel computer ma sono casi uno contro infiniti come dire casi particolari utili un messaggio generale quantistico non è possibile duplicarlo e una chiave criptografica quantistica sarebbe estremamente sicura quindi questo è una potenzialità che ha attirato l'attenzione degli istituti finanziari e degli enti finanziari che sono interessati a queste cose poi ad esempio la ricerca di informazioni in un database risulterebbe più veloce non di molto detto fra noi cioè mentre gli algoritmi attuali vanno come la lunghezza sono proporzionale la lunghezza del tempo proporzionale la lunghezza del database questo andrebbe come la radice della lunghezza ma non è un grosso guadagno non lo ritengo io un grosso guadagno la simulazione dei sistemi quantistici questo sarebbe un grosso guadagno allora uno potrebbe dire ma questo interessa solo i fisici se panno in corso questo non interesserà solo i fisici interesserà tutte le industrie chimiche farmaceutiche cioè sarà possibile inventare nuove medicine nuove molecole simulandole al computer e quindi con processi rapidamente quindi poter fare nuove medicine poi anche nuove droghe quindi in realtà questo interessa moltissimo cioè sarebbe l'uso principale perché adesso per simulare il comportamento di una molecola occorrono dei calcolatori potentissimi non ce la fanno un computer che lavora con le stesse regole della molecola andrebbe bene cioè che usa la meccanica quantistica come usa la molecola andrebbe bene cioè mentre adesso man mano che io aumento la complessità della molecola dobbiamo aumentare in maniera esponenziale la complessità del computer che ci metto dietro cioè della potenza di calcolo mentre nell'altro caso se raddoppio la molecola dovrei raddoppiare la potenza del computer quantistico niente di più dopo diventa fattibile l'intelligenza artificiale ricevere un grande spinta la google è molto interessata a questo e sta investendo molto su la google è stata la prima impresa che ha comprato il primo computer che è uscito quantistico quindi ci vengono molto però ci sono delle difficoltà da superare velocemente cerco di citarvele allora ci sono delle difficoltà che sono sette in totale diciamo cinque principali che sono chiamati criteri di Di Vincenzo che ne ha individuato prima di tutto la scalabilità e qubit quindi ben definiti cioè ricordate il grafico che ho fatto dalla legge di Moore mi ha detto qui stanno concentrando sempre più transistor in spazi sempre più piccoli e con i qubits come si fa nessuno lo sa bene ancora cioè aumenta adesso stanno aumentando il numero dei qubits dentro un chip quantistico adesso però siamo arrivati attorno alla settantina diciamo ma non è facile ingrandire perché per ingrandire bisogna aumentare anche tutto l'apparato che ci sta dietro che adesso è enorme ancora un problema da risolvere non è bene e poi bisogna avere ben definiti perché ho detto deve essere o 0 o 1 cioè o su o giù e non si non è che lui per caso diventa un'altra cosa cioè devono essere quelli cioè e questo non è sempre così facile che vuol dire che bisogna che stiano lì isolati l'isolamento non è facile a livello atomico molecolare isolare è difficilissimo poi possibilità di iniziare lo stato iniziale messi tutti a 0 ad esempio alzerare la memoria anche questo non è un'operazione banale bisogna applicare qualche cosa di fisico e questo qualche cosa rovina cioè poi se non rovina ci vuole un tempo per farlo invece si vorrebbe che fosse molto rapida questa operazione invece alzerare tutta la memoria potrebbe non essere così rapida però sono questi problemi minori il problema grosso è la coerenza quantistica cioè mantenere gli stati così come devono essere perché basta questi qui sono molto sensibili basta un soffio cambia si deteriora cioè addirittura il sistema quantistico perde la sua carattere quantico diventa quasi un sistema classico diciamo a caratteristiche più classiche che quantistiche quindi ci vogliono tempi di coerenza abbastanza lunghi per poter fare i calcoli almeno da fare i calcoli questo non è un problema da poco è il problema più grosso in realtà cioè questi durano poco e poi dopo ce la fanno più cambia lo staglio diventa si mescola tutto in fisica diciamo diventa una miscela di stati un miscuglio finora i tempi come sono messi qui siamo un record sembra siano 20 millisecondi che è un tempo abbastanza lungo 20 millisecondi sembra ci siano raggiunti un qualche laboratorio di mantenere lo stato fisico dei qubit per 20 millisecondi e quindi in quelli momenti operati da un punto di vista delle operazioni che si fanno è un tempo enorme ma da un punto di vista pratico è un tempo ancora troppo corto quando ci si arriverà allora qui c'è un grafico di come sono andati i vari tempi di coerenza questi puntini nel tempo in scala logaritmica perciò una cosa accettabile forse si avrà nel 2040 siamo là quindi c'è ancora delle strade da fare noi siamo ancora all'inizio rispetto al 2040 questo è il grafico che mi dà più la tendenza quando ci saranno questi computer quantistici forse nel 2040 in base a questo poi serve un set universale dei gate quantistici linea di teorica ne avremmo già a sufficienza pochi quantistici e pochi classici il problema è che bisogna farli funzionare e dipende dal sistema fisico che si sta usando alcuni non sono facili così da maneggiare perché quando questi gate operano corrompono un po' il sistema cioè entrano perdono l'isolamento e si degrada potrebbe degradare quindi è un problema parzialmente risolto per adesso c'è ancora da fare poi possibilità di leggere i qubit è mica facile andare a leggere anche questo dipende dal sistema che usino una punta di diamante che si eccitano dell'impurità all'interno che generano un segnale elettrico perché non sono facili per misurare li devi andare a leggere quelli cambiano ma poi devo anche poi sono piccoli cioè qui una cosa dice sono qui in una figura 300 nanometri sono quel pezzettino lì il qubit è quel nel mezzo che sarebbe una doppia buca per un atomo che può stare o di qua o di là lo hanno realizzato così un atomo di silicio che può stare o a destra o a sinistra poi lo stimoliamo questi sono ancora difficili sono difficili da fare li fanno come sono stati realizzati i computer del quantismo il primo computer venne realizzato con 5 qubit nell'università di Monaco del 2000 il primo computer commerciale diceva 128 qubit però è un po' particolare non è molto stato il D-Wave del 2011 10 milioni di dollari costato a Google che l'ha comprato il primo e la NASA che ne ha comprato qualcun altro qui come vedete all'interno e guardate che sono delle stanze ormai sono mezza stanza opero cioè perché perché per evitare diciamo contaminazioni dalle steno ritengo la temperatura allo zero assoluto quasi sotto il grado Kelvin cioè a meno 273 gradi sotto zero quindi non sono apparati semplici da mantenere cosa fanno i giganti tecnologici ci sono buttati sopra più o meno l'Intel sta ha prodotto 49 adesso ultimamente 52 cubits cioè un chip con 52 cubits sono tanti perché 2 alla 52 è un numero enorme di configurazione possibile però si sono un po' affermati ultimamente perché hanno problemi 52 cubits ma quanti ce ne sono di funzionanti veri per un tempo ragionevole pochi quindi stanno studiando come mantenere un tempo più lungo cioè avere un tempo di funzionamento più elevato la Google ne ha anche lei prodotto non so 70 cubits l'IBM ha prodotto il computer l'IBM il primo computer diciamo un altro computer IBM Q System One nel 2019 poco fa la Microsoft non ha prodotto niente si è concentrata collabora con enti di ricerca e laboratori sparsi in tutto il mondo si è concentrata principalmente su costruire un linguaggio e punta secondo me punta su una cosa interessante superconduttori topologici che non avrebbero bisogno di temperature così basse sembra 273 gradi sotto zero che non è facile ma è un frigorifero di quella di temperatura poi ci sono nuovi soggetti in gara come Rigetti Computers o Rigetti non so come si pronuncia l'americano il cognome sarebbe italiano ma lui è americano e in Europa tutti questi livelli sono tutti americani tutti gli Stati Uniti sono un strapotere degli Stati Uniti in questo campo cosa fa l'Europa? l'Unione Europea sta ha fatto un'iniziativa Quantum Flagship che dal 2018 finanzia progetti buttando sul mercato un miliardo di euro all'anno ha fatto un programma di 10 anni per finanziare i progetti la Francia vorrebbe acquistare diciamo la supremazia ha un suo progetto diciamo il pacchetto di progetti attorno vicino a Parigi in un laboratorio e vorrebbe spingere per diventare lei egemone diciamo è una lotta anche fra i presi l'unica ditta diciamo europea che io conosco che ha un computer che dice il più veloce del mondo una IQM che è finlandese che sta mettendo filiali in tutta Europa in Italia mi ho trovato questa SimQuantum che è uno spin off dell'università di Padova che si occupa di chiave criptografica e clandistica in Europa non c'è molto però l'Unione Europea sta finanziando i miei colleghi che stanno cercando di avere finanziamenti dall'Europa per poter fare ricerche in questo campo si vedrà futuro e già i computer la conclusione non possiamo arrivare a questa conclusione c'è una gran confusione ma va bene lo stesso ma e forse anche voi siete rimasti molto confusi ma infatti sentite cosa diceva Bill Gates c'è una parte della Microsoft dove mettono assieme delle slides che io non capisco io conosco un mucchio di fisico un mucchio di matematica ma il posto dove quelli mettono su delle slides che sono dei geroglifici è nel reparto quantistico che lui che ne sapeva abbastanza era molto confuso io con questo concludo grazie per l'attenzione grazie a tutti